In breve L'Osservatorio sull'usura del Consiglio regionale si è riunito a Palazzo Lascaris il 26 settembre per programmare l'attività informativa e di prevenzione da svolgere nelle scuole medie superiori del Piemonte. Nella stessa giornata il consigliere Tullio Ponso, delegato all'Osservatorio, è intervenuto a Torino alle officine grandi riparazioni all'incontro con gli studenti per riflettere sulla piaga dell'usura e per assistere alla proiezione del documentario Vite da recupero di Enrico Verra. L'evento si è svolto in occasione della mostra Fare gli italiani. Con l'Osservatorio regionale dell'usura vogliamo ancora una volta arrivare ai giovani in questo periodo critico e difficile. Abbiamo realizzato un prodotto multimediale realizzato da Bobbio e da Verra, dal regista Verra per parlare ai giovani dell'uso consapevole del denaro, soprattutto sul gioco d'azzardo, su questa difficoltà che flagella i giovani e le categorie più indifese della nostra società. Oggi vogliamo anche arrivare a lanciare un concorso nelle scuole superiori di secondo grado proprio per stimolare i giovani in merito a questa piaga che ci affligge.